Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi, come vedete, intanto è un'atmosfera diversa dal solito perché c'è il ghiaccio. Siamo con Pietro Siegel. Esatto, ciao a tutti, grazie per avermi chiamato ed eccoci qua insieme. Eccoci qua. Allora, per chi non lo sa, parliamo di short track, quindi fattinaggio di velocità, short track. Su ghiaccio. Su ghiaccio, come vedete dietro. L'anello non è quello da pista lunga, quindi il 400 metri ghiacciato, ma è il campo da hockey, diciamo, dove è un circuito da 110-111 metri, si gareggia non contro il tempo ma contro gli avversari. Le fasi sono a gironi, più si va avanti, più le fasi diventano più dure, più ristrette, fino ad arrivare alla finale che assegna le medaglie. E allora, partendo proprio da cos'è lo short track che ci hai detto, come è iniziato, come è nata la tua passione, raccontaci, insomma, i primi momenti. Beh, è iniziato che mio papà era un ex pattinatore, è stato campione del mondo in pista lunga, non short track, e quindi ovviamente ci ha messo sui pattini, per forza di cose. Appena, appena nati, via. Sì, esatto, da lì è partito tutto, ci è sempre piaciuto, sia me che mia sorella, quindi finché abbiamo preso questa strada è diventato il nostro lavoro. Eh beh, insomma, è stato, comunque, è stato bravo, babbo, a indirizzarvi già da subito. Molto bravo, sì, sì, devo dire, molto bravo. Ha capito la potenza di sa. E i primi momenti che ricordi hai, se ce li racconti, i primi momenti sul ghiaccio? I primi momenti sul ghiaccio, diversi rispetto agli altri, perché io ho iniziato sul lago ghiacciato a pattinare, da piccolino, si portava lì, che credo sia una delle cose più belle, perché è un ghiaccio diverso, ma poi per un bambino pattinare sul lago ghiacciato è tutta una cosa, tipo, super wow. E quindi, sì, molto, molto bello iniziare i primi passi su un lago ghiacciato, anche proprio stare all'aperto, in montagna così, e quindi sì, ho questi primi ricordi che sono davvero belli. Ma c'era un lago specifico che vi portava? Sì, lago della Serraia, che è dove abito, a Basilica di Pinè, e lì l'inverno il lago si ghiaccia, e quindi è tipico di tutti i turisti e gli abitanti, poi, appena si ghiaccia, che vanno su, pattinano. Invece di, io volevo fare a pallate di neve, e invece sono subito sul ghiaccio. Esatto. E da lì poi nasce un po' tutto. Invece, come poi sei entrato nel mondo delle, proprio delle gare, delle competizioni? Ma, poi, vabbè, è diventato un po' il mio sport, quindi ti iscrivi alla società, inizi a fare le garette, cresci, cresci, capisci che vuoi che sia la tua strada, e comunque iniziano anche, magari, iniziano più sacrifici con gare, spostamenti molto più lontani, più impegnativi, le prime chiamate in nazionale junior, e poi, a fine periodo junior, quindi 18-19 anni, tu, ovviamente, davanti una scelta, provare a continuare, oppure provare a, non so, a studiare, a lavorare, a fare quello che vuoi, insomma. Io ho provato su questa strada, dopo l'ultimo anno junior, è andata bene, e mi hanno preso subito in nazionale senior, e quindi da lì è stato tutto un po' più facile, fra virgolette, però comunque, per arrivare ad alti livelli, devi sempre comunque lavorare, perché il salto tra junior e senior è davvero grosso, c'è una grande differenza, quindi se da junior vai bene, ti sembra, ma poi appena arrivi con i senior, prendi le mazzate nei denti. Ma lì hai capito subito che poteva diventare, diciamo, il tuo lavoro? Cioè c'è stato un momento che hai detto, no, ma sai cosa, è il momento di provarci, cioè lo voglio proprio. Sì, l'ho capito l'ultimo anno junior, perché l'ho dedicato veramente solo a quello, anche un po' come test da capire se ne valesse la pena oppure no, e il mondiale junior è andato molto bene, le fiamme gialle si sono fatte avanti, e quindi da lì poi è stata tutta una catena, è diventato il mio lavoro grazie a loro, e quindi poi è stato anche psicologicamente più semplice per me, perché comunque hai un supporto, qualcuno che ti supporta a 360 gradi, al 100%, quindi è stato un po' più semplice sotto certi punti di vista, ma comunque l'impegno sei tu che devi allenarti, nessuno lo può lavorare per te nello sport. Quello sì. E quindi gli allenamenti, ora che hai proprio nominato questa cosa, come funzionano? Ma noi stiamo in raduno tre settimane al mese, da giugno a marzo. Noi stiamo in raduno sempre. Esatto, esattamente. Un mese di stop a fine stagione dagli allenamenti, poi si riprendono gli allenamenti, il primo periodo è un po' più tranquilli, e più tempo a casa, poi vabbè da giugno si inizia proprio tre settimane, una a casa, e poi all'inizio ottobre inizia le gare, Coppa del Mondo, quattro tappe di Coppa del Mondo, prima di Natale, due febbraio, gennaio-febbraio, e a marzo i mondiali, con gennaio, ho dimenticato, gli europei. Ok, quindi questo più o meno tutte le stagioni. Tutte le stagioni, tranne le Olimpiadi, che sono quattro Coppe del Mondo, prima di Natale, europei a gennaio, Olimpiadi a febbraio, e poi a marzo il mondiale. Comunque insomma, europei, Olimpiadi mondiali, uno dietro l'altro, è una bella... Una bella sfida, sì, poi ovviamente lì il focus è sulle Olimpiadi, quindi le altre gare si fanno, però diciamo la... Cioè il punto centrale è quello. Il punto centrale, sì. Ma c'è differenza nel preparare un'Olimpiade dal preparare un mondiale, un europeo, una gara di Coppa del Mondo? Facciamo le Olimpiade, magari è più difficile anche a livello mentale, da sopportare tutto quello che c'è intorno, e soprattutto sono gare che durano due settimane, e noi siamo abituati a gareggiare in tre giorni. Ok. Perché si corre un giorno sì, un giorno no, un giorno sì, un giorno no, quindi devi fare due settimane, devi essere sempre al massimo, e quello è davvero strano, è particolare, diverso, che a volte può essere difficile da gestire, perché se sei abituato a cercare la forma in tre giorni, lì devi gestirla e spalmarla su due settimane. Devi avere energia per due settimane, e né troppo né troppo vuole. Esatto, il che è anche difficile, perché non è che è l'inizio di tutte le qualificazioni, e solo alla fine di tutte le finali. È un po' e un po', quindi devi essere sempre in forma per due settimane, e la preparazione è un po' più complicata per arrivare a essere bello pronto per due settimane. L'anno olimpico si lavora molto di più, un po' tutto l'anno si cerca di, l'estate prima delle gare, proprio il lavoro, quello che ti ammazza. È abbastanza impegnativo. Cioè non che vai a rischiare di buttare via le qualifiche olimpiche, perché sono importantissime le Coppe del Mondo, perché ti qualifichi con i posti, però è un lavoro molto più intenso rispetto a quello che è durante gli altri anni. Eh sì, infatti immagino sia proprio quello il punto focale, anche mentale vostro, da dover gestire. Ma a livello mentale quindi hai trovato dei metodi per capire come gestirti, ti senti cresciuto da questo punto di vista in corso del tempo? Avendone fatte solo una, purtroppo, di Olimpiadi, è anche difficile allenarsi, sotto quel punto di vista lì, cioè allenarsi puoi allenarlo, ma dopo non lo provi, lo provi solo in quel momento. Diciamo che la cosa che ti dà più sicurezza è se se tu sei pronto, puoi anche star mentalmente pronto, fisicamente sei pronto, preparato, anche mentalmente sei più tranquillo, perché sai che nelle gambe ne hai, quindi... E che poi comunque è così per tutti. e quello non è che ti aiuta, però non è una cosa che è solo per te, quindi... Sì, cioè siete tutti sullo stesso piano alla fine, devi pensare sempre a quello. E questo è un punto che devi usare per essere un po' più tranquillo mentalmente. E visto che ora hai nominato le tue Olimpiadi che hai effettuato, due medaglie, bronzo e argento, staffetta maschile e staffetta mista, giusto? Se hai voglia di raccontarci come si vive un'Olimpiade da dentro intanto, che è una cosa sicuramente nuova, che è stata nuova anche per te, come l'hai vissuta, anche se hai fatto tipo le varie cerimonie, l'atmosfera che uno vive, cioè cosa succede a un'Olimpiade di diverso? Eh, tutto diverso, è tutto amplificato di cento volte qualsiasi cosa. Poi noi l'abbiamo, almeno io, perché avendo fatto quella di Pechino 2022, un po' diversa... Per pubblico. C'era, esatto, tutte e mille restrizioni, quindi è stato un po' complicato, perché comunque tutti i giorni il tampone, tutti i giorni comunque devi stare attento, immensa, si mangiava insieme ma separati, perché c'erano dei separé di... Di plastica. Esatto, di plastica, ma proprio non per tavolo, proprio... Ah, cioè singoli? Singolo. Quindi per parlare con la testa... Mi passi con... È tutto così, esatto. Poi vabbè, il villaggio olimpico è quello, non è cambiato nulla, semplicemente non c'era il pubblico. Il villaggio olimpico è... Cioè ti dà veramente una carica positiva a vedere tutti gli atleti, ovviamente al massimo del livello, perché sei lì alle Olimpiadi, quindi vivere in un contesto così ti stimola parecchio. Dall'altra però c'è anche tanta pressione perché sono le Olimpiadi. E quindi... Cioè dici pressione proprio da fuori? Pressione nel senso che senti che c'è una concentrazione sull'evento. Quindi da parte anche mediatico, mediatico, giornali, pubblico, qualsiasi persona che ti guarda, ti scrive, che è davvero alta e quindi lì un po' diventa più difficile, però è la parte più difficile per noi atleti, è far finta di non essere alle Olimpiadi, comunque far finta che non ci sia nulla, quando in realtà è tutto amplificato a mille. La cerimonia d'apertura io non l'ho fatta perché il giorno dopo correvo. Ah, subito? Ok. Quindi una scelta tecnica, chi correva sta a casa, chi invece... Può andare, insomma. Chi invece non è a quel giorno lì, non è begregiato il giorno dopo, il giorno dopo poteva andare a fare la cerimonia. Quindi abbiamo fatto la qualificazione della staffetta mista, mi sembra, e quindi chi era sicuro di fare la mista è stato a casa. Ci sta, una scelta tecnica, quindi abbiamo saltato la cerimonia d'apertura. Bisogna concentrarsi, non distrarsi, stare lì sul focus. Sì, perché poi è stancante, vai lì magari un'ora prima, perché devono organizzarsi, cioè c'è tutta una organizzazione specifica, quindi devi andare lì un'ora prima, anche due. Organizzano tutte le nazioni, come si entra, cosa si fa, tu entri, sta in piedi, prendi freddo, prendi caldo, poi ritorno a casa, poi io mi ricordo che sono stati nel bus, perché c'era una marea di gente, c'era una marea di gente, tutte le nazioni, perché era la cerimonia d'apertura, i bus sono stati in fila, e mi ricordo i miei compagni, sono stati un'ora e mezza sul bus, quindi è una cosa che va tenuta di conto, effettivamente, se te c'è il giorno dopo la gara... Per questo è stata una scelta giusta, che ci sta, quindi purtroppo non ho fatto la cerimonia d'apertura, però con la medaglia mi sono fatta le premiazioni, che sono molto particolari, belle, cioè sono cose da vivere, che puoi vederle, però finché non le vivi... È un'altra cosa, esatto. Allora, proprio parlando delle medaglie, se ci racconti, come sono arrivate, però dal punto di vista anche tuo, di morale emotivo, quindi c'è se la notte prima, come l'hai passata, la tensione, cioè ripercorriamo insieme proprio quelle giornate. Ma allora, come tensione, sentivo ovviamente un po' di più, però diciamo che il fatto che non c'era al pubblico tutte le persone che sarebbero venute a guardare la gara i giorni prima nel villaggio olimpico, che era solo da atleti e non anche per turisti, quello un po' ha aiutato, perché sì, per quanto c'era pressione mediatica, però poi quando tornavi in stanza o nel villaggio ti sembrava di partecipare a una gara normale e quindi anche di conseguenza al momento in cui arrivavi allo stadio, per quante cose ci siano, che siano amplificate comunque anche allo stadio, al palazzetto, comunque vedere lo stadio purtroppo vuoto, quello simulava un po' di, cioè non, per carità noi qua andiamo in giro, in Asia c'è un, beh c'è un seguito, c'è un seguito che è diverso totale, però non ti rendevi conto in base al pubblico, che non era una cosa così diversa, esatto, non era una cosa così diversa, e quindi quello ha aiutato, io la notte no, ho dormito, è più dopo il risultato che non dormi, adrenalina a palla, sì, perché poi noi gareggiavamo la sera dopo cena, perché va bene, in Cina era uno sport più seguito, quindi volevano il massimo della visibilità, quindi correvamo tipo dalle 7 alle 10 di sera, sì, che per loro comunque è proprio uno sport alto, alto livello, e quindi noi abbiamo finito la finale alle 10, 10 e mezza, poi vabbè cambia, ti passa per tutte le tv, cambia, ti fai la cerimonia in pista, poi torna in albergo, è arrivato tipo a mezzanotte e mezza, poi lavati, vai in stanza, c'è l'una, io tipo fino alle 4 non ho dormito ovviamente, con la medaglia da guardarla, tutti ti scrivono e ci sta, no la medaglia purtroppo non ce l'avevo ancora, perché la premiazione era, al giorno dopo, con calma, tipo alle 6, il pomeriggio, cioè pomeriggio sera, una cosa proprio separata, c'era la premiazione in pista, ma che ti davano il pupazzetto, i fiori, i gadget diciamo, esatto, la premiazione lì, però dopo quella dove c'è la zona della premiazione, e invece la gara, come l'hai vissuta al momento della gara, è stata una gara particolare, nel senso che purtroppo a metà gara su due squadre si sono date dentro, noi abbiamo sfruttato il momento che fa parte del nostro sport, e quindi poi all'arrivo si è arrivato con più tranquillità, noi comunque ci avevamo provato fino alla fine, perché è giusto insomma, si entra per provare a vincere, Cosa stai parlando? Il bronzo o dell'argento? L'argento, mista, la semifinale è stata più combattuta, però comunque la squadra noi ce l'avevamo forte, sapevamo che eravamo molto competitivi, e quindi i risultati non sono arrivati per caso, anzi sono... Frutto del lavoro, Frutto del lavoro, poi la casualità in quel momento, magari ci è andata anche un po' di fortuna, però comunque sapevamo che eravamo molto competitivi, e... Ma siete andati lì per giocarvi proprio le medaglie, cioè questo era un obiettivo proprio, Ma anche su carta, cioè potevamo giocarci le medaglie comunque con due, con le femmine così forti, e anche noi comunque ci difendavamo bene, più che le medaglie no, era giusto puntare le medaglie, quello che si è riusciti a fare, invece la staffetta maschile già sentivo più pressione, perché c'era un nostro compagno che non ha fatto la mista, e quindi se magari senti, arrivi in finale e dici, cavolo tu l'hai già fatta, non che ti siedi, però invece questo compagno, cioè ti senti più responsabilità, perché... Spingeva lui insomma, eh sì, perché tu l'hai già fatta, ovviamente la vuoi, però nella staffetta maschile era, secondo me, avevamo meno possibilità, perché nella mista eravamo veramente forti, nel maschile eravamo competitivi, però molto più difficile, e quindi è stata abbastanza tosta la gara, molto tesa, poi c'è stato nel 5.000 maschile un buco che ha preso il Canada, e quello diciamo è andato un po' a nostro vantaggio, un po' a svantaggio, nel senso che ci siamo trovati dietro, quindi abbiamo fatto consumare un po' di più energia la Russia, dopo le abbiamo superate, ci siamo risuperati, finché siamo arrivati all'arrivo uguale, siamo arrivati alla medaglia, per fortuna, e lì sì, in momenti di tensione, perché dopo la gara l'hanno guardata per altri contatti, non nostri, quindi finché non vedi il tabellone, perché voi avete questa cosa, anche che finisce la gara, e poi mi devo fermare a guardare, sarà tutto regolare, perché cos'è successo in gara, io magari non me ne rendo nemmeno conto alle volte, immagino, perché voi... sì, cioè nella gara individuale magari tu sai quello che fai, ok, però i compagni alcuni li vedi, alcuni no, perché nel momento in cui dai il cambio dopo, non vedi quello che è, tu sei dall'altra parte della pista, quindi non puoi renderti conto di quello che succede, non al 100%, quindi sì, sono stati momenti lunghi, quindi quel momento lì, tutti fermi, nessuno dice niente, esplosione, sì, la gioia ovviamente, e il capire di avercela fatta, comunque non... perché è stato molto più difficile nella staffetta maschile, quindi è stato molto più gratificante, diciamo... come idea di una cosa. Sì, perché è stato molto... cioè, a livello nostro rispetto anche agli altri era alto il nostro, ma c'eravano talmente tante... Tante nazioni lì, dici? uguali o comunque lì lì, che era confermarsi o fare la medaglia, era difficile, però il fatto che ce l'abbiamo fatta ha dato una grandissima soddisfazione a tutti, è stata la medaglia più... della quale sono più contento io. Bello, bello questo, e comunque insomma sono due, argento e bronzo, eh sì, non male. Non male, alla prima Olimpiade direi che... no, 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 non male. Va benissimo. E le premiazioni quindi che hai detto che sono state particolari? In che senso? Eh perché c'è un luogo in mezzo a Pechino che dedica come ci sarà da noi, adesso non so se parlavano del Duomo, la piazza del Duomo che allestiscono per fare le premiazioni, quindi fai conto di una cosa così a Pechino, tu entri, ti preparano perché anche là tutto precisi, ti controlla le tasche, non puoi avere niente, neanche una carta, un telefono perché poi si vede di essere perfetto, quindi lasci tutte le cose nelle tasche, la felpa dentro perché se ti alzi non voglio vedere, cioè tutte queste cose qua di prepararti, come se andassi a fare una sfilata. No, è proprio una sfilata. Una sfilata. Non è proprio una sfilata. Non è proprio una sfilata. Non è proprio una sfilata. Esatto, poi ti siedi, perché poi il bello della premiazione è che non è che premia solo il tuo sport, quindi magari ti becchi anche altre persone, altre discipline. E poi tutte persone che hanno preso medaglia, quindi vedi proprio i campioni di quelle Olimpiadi, quindi è veramente molto figo, sì. Ci sta. La grande. Poi sali, segui queste, cioè tutte le... La procedura, la procedura di seguire da dietro, si entra così, si fa così, perché anche sul podio poi non è che ti lasciavano tanto liberi, c'era da seguire proprio la procedura. proprio quindi molto schiamato. Devi guardare i segnali sotto. Esatto. Su questo devo dire, sono precisi proprio. precisi, però dai, non si sbaglia. Da noi, per noi è un po' di scatola di scatola, per questo andare su e festeggiare. Per le tv è anche bello vedere una cosa tutta ordinata, precisa, secondo me. E quando vedi la bandiera che sale e sai che l'hai fatta salire? E quello è bello. Poi purtroppo lì non lo fanno suonare solo al primo che ci sta, però comunque è molto molto bello, molto molto figo. E allora parlando proprio del primo, perché ha suonato recentemente l'inno italiano ai mondiali, individuali, 500 metri? Esatto. Allora quest'anno fresca fresca. Fresca fresca di marzo. Ce la devi raccontare questa. Quello particolare. L'ho vissuto agli europei, per convinto i 500 anche lì, però al mondiale quando suona è diverso, perché in Europa comunque si dici, ok sono all'europea, però manca una parte di mondo. Una bella fetta. E quindi farlo riuscirci ai mondiali è stato proprio emozionante. Anche lì sono cose che devi viverle, sono emozioni che provi solo in quel momento. Non ti sembra poi appena sei dentro sei lì. Dici, ah, ops. Esatto, è bella forte. Ma lì ti sei sentito? Cioè che sensazioni avevi nei confronti di questa gara? Ma da un lato, mi è dispiaciuto per il cinese, perché l'hanno squalificato. Però d'altronde le regole sono quelle. Bisogna, cioè gli altri partecipanti, compreso me, sono stati più bravi nel rispettarli. Fa parte anche quello purtroppo. Infatti quest'anno hanno anche modificato un po' quella cosa lì, nel senso che prima di entrare puoi verificare se hai il chip, c'è un computerino che ti segnala se hai o non hai. E quindi, cioè, se uno lo dimentica, vuol dire che è proprio... Sì, cioè, nel senso di, vabbè. Quasi che fai apposta, mi viene da dire. Cioè, c'è tutto ormai per non... Esatto. Perché non succeda. Beh, è dispiaciuto. Poi, comunque, in realtà, c'è stato... Secondo me sarebbero andati a vederla comunque la gara, perché l'ultima curva c'è stato... Lui è andato all'esterno e ha fatto perdere due posizioni alla fine al canadese. quindi lì, secondo me, sarebbero andati comunque a vederla e non si sa poi quello che avrebbero deciso. Però, comunque, mi sentivo di aver fatto una buona gara, di essere immeritato. E' stato più contento di come ho gareggiato la semifinale perché ero quinto fino a meno un giro. Dopo uno l'ho superata a meno un giro, poi due all'ultimo giro, ma... Poi ho provato... Sì, sì, sì. Dici, non è che ci arrivo così. No, no, no. Io ci ho provato perché ovviamente ero in gara e si fa... Però non mi aspettavo quindi la gara più... di cui mi sono stato più fiero è stata la semifinale perché fino all'ultimo giro potevo anche sbattermene invece salire così e crederci fino alla fine. Alla fine ha ripagato sempre e compresa la finale ho difeso e all'ultima curva è successo il contatto e sono arrivato davanti. Quindi... Sono stato molto contento della gara. Ma fisicamente ci hai arrivato bene, mentalmente bene? Cioè ti sentivi comunque già in palla, diciamo? Ma dopo che fai il secondo nel 2005 comunque un po' tendi a rilassarti perché dici ho già fatto una... Cioè ho già dato parecchio poi i turni del 500 sono veramente tosti fisicamente perché sono sparati tutto subito del dritto. La cosa più difficile da gestire è che è stato che dopo l'argento del 1500 è arrivato l'anti-doping e mi fa devi fare la pipì e quello è un problema perché ti porta via troppo tempo e i turni sono troppo vicini per poter fare la pipì. Quindi dopo i 1500 cioè dopo la prima distanza io non ho fatto la pipì tipo dalle... dalle tre fino alle sette di sera e ho dovuto fare i 500 senza... mentalmente è stato difficile da gestire per fortuna non ho avuto grandi stimoli perché è una cosa che è una gara perché vai a fare il test oppure te la tieni però gareggiare quando hai un grande stimolo non è il massimo quella è stata la cosa più difficile da gestire cioè questa è una roba che va... che noi non vediamo e non conosciamo ma è una roba che per voi è particolare però tra una distanza e l'altra può succedere e purtroppo avrei preferito me l'avessero fatto dopo il 500 perché almeno avrei potuto liberare però comunque sono stato contento di aver gestito questa situazione perché prima volta che succede così a me cioè tra una distanza e l'altra che ti dicono anti-doping e più che altro a volte riesci a farla perché magari hai più tempo in Coppa del Mondo facendo ci sono 4 distanze a weekend tu puoi farne 2 al massimo quindi in certi momenti hai un buco più grosso dove se lo usi bene riesci a farlo se fai le carte velocemente invece al mondiale 3 distanze tutti quelli quindi i tempi sono veramente corti e non avevo tempo e quindi poi comunque fai il 500 non è che esco vado a fare la pipì sì 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 prima azione e questo e fai la borsa e vai passa almeno un'altra ora e mezzo perché alla fine questa è una roba di gestione che è importante contento come ho gestito la gara e dove non mi sono fatto prendere ecco devo andare al bagno adesso mi scappa la pipì sì perché comunque è un pensiero che dici se mi entra quel pensiero lì poi vallo a togliere a dirle che non va bene infatti non è stato il massimo però vabbè sono stato contento di gestire anche quello fa parte del percorso del processo di crescita purtroppo cioè purtroppo nel senso va benissimo i controlli però purtroppo ogni tanto capitano nel momento più difficile da gestire durante la gara però per dire è anche ora che sai che l'hai gestita già forse mentalmente lo so già lo posso rifare altre mille volte esperienza che si fa e fa bene che può ricompitare sicuramente e quindi va benissimo ora hai detto la parola esperienza mi viene a mente sui percorsi che fate che sono te fai 500 metri 1500 5000 no individuali sono 500 metri 1000 1500 e la staffetta invece la staffetta 2000 metri mista maschi e donne 5000 maschile quanto cambia da farlo da solo da farlo in staffetta e quanto cambia proprio nella cosa nella distanza cioè come ti approcci la gara in modo totalmente diverso sì allora su distanze dai 500 metri ai 5000 eh sì poi per funzionare 5000 non li fai tutti esatto anche lì sarebbe un problema sarebbe un grosso problema no allora il 500 metri vabbè molto semplice da spiegare una sparata fine c'è poca tattica parti al dritto subito a volte alcuni fan tattica però c'è poca tattica cioè è una sparata per fare la tattica non ce la fai ma è anche inutile fare tattica perché se tu poi fai un tempo alto parti in quinta posizione sulla linea di partenza quindi poi non è che hai già finito però difficile sì ti complichi la vita da solo cioè il turno puoi passarlo però dopo ti trovi sì all'esterno a partire è una cosa di 500 metri ti metti in difficoltà da solo ecco sì sì quindi non ha molto senso poi per dinamiche di cara ogni tanto può succedere però sono cose rare che succedono poche volte che ha senso farle veramente veramente poche poche volte il mille metri invece è la distanza più secondo me più ostica perché è quella distanza che non devi dare tutto subito non è né una sparata ma non è neanche una gara più lunga da gestire troppo all'inizio quindi e fai una velocità di crociera che è veramente alta dove ti spacca e la cosa difficile è capire cioè tatticamente interpretare quella gara perché fai una velocità di crociera altissima quindi se consumi troppo all'inizio alla fine sai che ti superano però se rimani troppo indietro all'inizio poi non ci arrivi a prenderli e dopo puoi avere anche qualcosa di più però fai una velocità di crociera talmente alta che non è abbastanza per superare gli altri ovviamente questo quando giri a tempi sotto un minuto e venti sai quando è ancora a minuto e venti sei riesce a fare qualcosa ma semifinali e finali o anche quarti dove comunque le gare sono di solito sono 1.25 5.24 se non 23 quando si parte a quei ritmi là no è veramente difficile cioè o uno proprio salta ma anche se è stanco ti chiude non fai una velocità di crociera dove è troppo cioè è impossibile fare una velocità così alta da superare qualcuno ma che velocità raggiungete voi massimo? punta 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 anche 55 poi 550 50 all'ora nel continuare continuare nel giro singolo punta 55 tantissimo è abbastanza pensarlo in modo assoluto magari uno dice vabbè guardi gli sciatori vengo già a 130 però in discesa però la cosa che secondo non è più difficile non sto dicendo che una è più difficile che l'altra sono due sport diversi però è difficile gestire le inclinazioni e i raggi di curva stretti che abbiamo che lì sbagli sbagli una volta l'inclinazione sei fuori poi anche tutta la gara vabbè sei fuori dopo non giri abbastanza veloce comunque il girare è forte e poi è difficile fare le curve perché è una pressione assurda sulle gambe ma queste misurazioni le prendete proprio con i tempi con i tempi sì 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 è bello comunque in base a quanto giri in base al tempo al giro tu sai più o meno la velocità che hai raggiunto però di conseguenza sai che in curva sei arrivato a determinate pressioni che sono altissime bello e tornando scusa alle staffette che ora poi mi hai detto velocità ho detto no aspetta lì lo devo chiedere le staffette quindi come funziona la gestione di una staffetta eh lì c'è una beh a parte che non ho spiegato il 1500 il 1500 è una gara un po' più tattica nel senso che comunque si parte di solito un po' più con calma e quindi uno che ha un buono sprint può venire fuori comunque alla fine se si copre bene cosa che nel 1000 metri negli ultimi 500 negli ultimi 3-4 giri ok invece nei 1000 metri se uno non è tanto resistente non può far niente perché come ti dicevo la velocità di crociera è troppo alta invece nei 1500 questo questa qualità di qualcuno può venire fuori se una gara se lui la corre bene e non è estremamente veloce perché comunque anche il 1500 può venire molto molto veloce e ovviamente lì conta la resistenza però non succede così spesso che viene ultra ultra veloce perché è una gara molto molto più tattica individualmente è la gara quella più tattica ma tra queste tre distanze te quale preferisci il 1000 è quella che preferisco il 1000 meno il 1000 potrebbe essere solta proprio esatto per me si 500 e 1500 e 1500 perché ti dici uno è tutto insieme e l'altro è ma mi piacciono tutte e due sono due gare diverse però mi piacciono tutte e due non ho una preferenza ci sta ci sta e quindi tornando alle staffette le staffette c'è il 2000 metri che è la mista quella in realtà è una sparata ma di gruppo perché sono due cambi a testa e c'è poca tattica è totalmente ah lì è proprio zero quasi poca tattica c'è una sparata in finale ecco può esserci magari un po' di tattica però dipende però è sempre bella dritta dipende che squadre arrivano perché tutto dipende da quello però dipende sì dipende generalmente non è molto tattica cioè al massimo si parte un po' più con calma ma dopo alla fine sei sempre al massimo cioè fondamentalmente se non c'è una sparata al massimo parto al 95% dopo do tutto però questo invece al 5000 metri inizia ad essere una gara molto tattica anche di gestione con i compagni ognuno ha il proprio ruolo comunque non è che si entra a caso nel senso non è che quello che parte è messo lì a caso e potrebbe fare il terzo il quarto perché ogni persona è fondamentale e ha un proprio ruolo una sua specialità esatto un suo dovere diciamo fra virgolette dovere provare a fare quella cosa perché tu nella staffetta sei in quella posizione e ogni staffettista ha il suo ruolo che deve provare a fare ovviamente poi se riesce bene è comunque una cosa di squadra con per ognuno la sua caratteristica e ognuno ha il suo compito da fare ovviamente poi c'è una tattica generale della squadra però poi nello specifico ognuno ha il proprio compito nel fare qualcosa e ovviamente il primo e il secondo fanno otto cambi invece il terzo e il quarto fanno sette cambi questa cambia un po' perché fai ovviamente un cambio in più e tanta fatica in più però vabbè gli altri comunque non perché fai sette cambi non fai fatica anzi perché loro sono quelli che devono lavorare di più per prendere posizione per superare per difendere perché fai un cambio in più vuol dire che devi fare un giro e mezzo a bomba in più cioè a bomba sì perché alla fine vai a bomba quindi diventa più cioè più è un po' più difficile per è semplicemente un po' più lunga però anche il terzo e il quarto che fanno sette cambi comunque hanno il loro ruolo e fanno fatica tanta anche loro perché sono quelli che devono comunque prendere posizione o difenderla di più fare diciamo lo sforzo usare più energie magari durante la gara invece il primo e il secondo sono quelli che soprattutto il secondo quello che chiude la stafetta è quello che deve preservare il più possibile mantenere proprio salvare il più possibile per chiudere alla fine perché alla fine può esplodere esatto la sparata finale è una gestione comunque a te piace comunque questo come il tuo ruolo mi piace però ogni tanto farei anche altro vuoi fare altro eh sì perché è abbastanza responsabilità ma non che mi pesi quello però ogni tanto prima di uscire all'ultimo cambio gli ultimi due giri che sono quelli un po' fondamentali tante volte se lì non esco è troppo è troppo difficile cioè troppo io sono stanco adesso non parto cioè non parto dopo vabbè ti spingono vai però è tanta c'è un po' di più pressione ogni tanto mi piacerebbe essere tipo il terzo il quarto star lì io faccio faccio sorpasso poi guardo gli altri mi godo per ora è questo il mio ruolo va benissimo così comunque è un ruolo importante come tutti gli altri perché alla fine sono tutti ognuno è il suo e sono tutti importanti allo stesso modo perché è una staffetta di squadra e si vince insieme abbiamo parlato un po' di tutte le cose belle che ci sono ma ti chiedo se hai avuto anche dei momenti difficili nel mondo dello short track sì comunque il passaggio da junior a senior non è stato facile perché cambi completamente vita passi dallo stare allenarci fondamentalmente a casa a casa tua a cambiare vita quindi andare nel posto in cui c'è il centro federale quindi ho fatto il primo anno a Courmayer che era a Courmayer 19 ho fatto il primo anno lì a Courmayer perché al tempo il centro federale era lì e quindi si cambia ma al di là di dove sei comunque iniziare a andare via di casa sempre un po' difficile poi soprattutto perché quando sono entrato io la squadra maschile era in un periodo un po' crisi perché non c'è stato un gran ricambio di generazione e quindi mi sono trovato praticamente a essere il giovane con persone che avevano dieci anni in più cioè sette cinque sei otto nove dieci dodici anni in più di me quindi uno scalino grosso eh sì cioè per quanto io sono sempre andato d'accordo non è che mi hanno mai messo in difficoltà però il rapporto che c'è è diverso è inevitabilmente diverso anche perché semplicemente loro sono insieme da sei sette anni io entro nuovo molto giovane però è stato quello il fattore lì per quanto io mi sono sempre trovato bene è stato un po' un po' difficile perché prima ero abituato ad allenarmi con miei amici compagni della vita ti trovi con gente che ha dieci anni più grande ti divertivi con loro esatto gente che ha dieci anni più grande quello è stato quell'anno è stato un po' difficile infatti è fatto abbastanza a caccare ok vabbè cioè è il dottore esatto perché comunque è un cambiamento grosso e a livello mentale come dici ti cambia già vai via di casa ma poi anche semplicemente per una questione di crescita fisica dell'atleta ci sono per coprire il gap da junior a senior comunque un po' di tempo di dartelo c'è chi ci mette di meno chi ci mette di più però un po' di tempo di dartelo e invece parlando ai compagni di squadra eccetera ora che siete più o meno sempre è diverso perché l'età è la stessa c'è un buon rapporto quelli più vecchi di me li conosco molto meglio c'è anche tutto un altro rapporto ma poi passate tanto tempo insieme voi esatto passi quasi la vita insieme questi anni qua passi gli anni insieme con loro e poi finalmente sono arrivati quelli un po' più giovani di me che conoscevo e quindi ci sono anche loro a bordo quindi anche è un po' meglio non perché siano antipatici anzi perché mi trovo veramente bene però diciamo è un altro tipo di rapporto che ci sei cresciuto in modo diverso con i tuoi coitani è meglio cioè è meglio sì è diverso è diverso è un rapporto diverso più a volte è un po' più tranquillo però comunque la persone cioè è anche questione di uno è da più anni in squadra devi comunque stare c'è anche quel rispetto da veterano giustamente che ci sta poi magari a fare il più il cazzone con il tuo amico compagno di una vita esatto e poi è proprio bello insomma quando cresci con una persona a fianco e riesci a a fare lo stesso lavoro tra virgolette diventa interessantissimo esattamente e invece ora parlando proprio di amici che hai detto cosa fai extra riesci a vedere anche gli amici extra fattinaggio col poco tempo che hai a disposizione cosa fai come lo fai non essendo a casa mia come centro federale i miei amici di casa li vedo non tante volte poche volte poche volte mensilmente che torno a casa cerco comunque di vederli il più possibile anche se non è facile perché io ho le mie cose comunque anche quando torno a casa se dici non è che vado a casa e sto fai e loro hanno le loro cose c'è chi lavora c'è chi studia comunque di solito riesco sempre a trovarli loro mi supportano e questo mi fa piacere poi qua i tuoi amici diventano i tuoi compagni di squadra comunque usciamo ci troviamo ci divertiamo anche però sì comunque ogni tanto gli amici di casa mancano e come passi le giornate cioè quando sei un po' libero c'hai un hobby cioè vai a fare qualcosa dici stacco completamente ma l'obby dell'atleta secondo me che il giorno libro almeno di solito io il giorno libro la domenica fai niente off è proprio zero non voglio fare niente l'obiettivo l'obiettivo è proprio non fare niente il più possibile esatto non mi parlate esatto stare nel letto così a rilassarsi a non far niente perché durante la settimana comunque è bello tosto stressante tu non vedi l'ora di rilassarti però questo ovviamente ogni tanto si fa però all'estate comunque cerchiamo di far qualcosa ma più che come altri sport che quello lo cerco di fare a fine stagione a inizio stagione dove i ritmi sono più tranquilli io sono più a casa ma lì tipo cosa ti piace fare di sport? ma allora vabbè noi pratichiamo cioè sport nel senso la nostra preparazione è abbastanza ampia quindi comunque andiamo in bici per allenamento andiamo in palestra per allenamento corriamo per allenamento già di per sé questi sono già cose esattamente diverse esatto oltre che attinare io a volte l'estate vado anche con i roller pure quindi cioè già di sport ne faccio l'unica roba che faccio a volte a casa è magari andare in montagna camminati queste cose qua trekking classico esatto e invece quando sono durante la stagione la domenica più che fare sport ci troviamo per passare il tempo in compagnia senza essere in allenamento quindi si esce si va fuori a pranzo una merenda cose così molto tranquillo molto tranquillo vabbè è bello socializzare al di fuori dello sport anche perché se no diventa poi forse anche mentalmente un po' troppo cioè bisogna tanto di staccare ogni tanto la play è la play è ci sta cosa giochi alla play? solo per passatempo perché sono un pippone colossale alla play sono veramente scarso vabbè i miei amici che giocano che lo fai poco è per quello esatto diciamo così mascheriamo così e no ci sono i miei amici che giocano a fornet allora metto dentro con loro però vabbè almeno è divertente stare in cuffia spari due cavolate quello è divertente ecco faccio quello ma sono un pippone colossale ci sta ci sta è bello io provo anche impegnarmi però mi rendo conto non mi viene non mi viene vabbè diciamo ti viene altro ma sì vabbè infatti ognuno ha il suo esatto e invece hai della musica che ascolti prima di ogni gara? una playlist o? dipende cioè io ascolto le canzoni che in quell'esatto momento mi piacciono tanto e basta ma è pre-gara cioè come ti concentri ascoltando musica? musica si ha musica cuffie cuffie sì 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 la musica sì è una cosa che uso a volte no a volte niente dipende più e più più le giornate sono toste allora più cerco di stare con la musica per stare più focalizzato se ci sono giornate un po' più tranquille magari cerco ma di non ascoltare la musica e stare magari cioè non con i miei compagni perché ognuno ha la propria certo sì sì per tanto routine scaramzie eventuali però magari di chiacchierare un po' di più ecco di godertela un po' con loro diciamo esatto allora noi chiediamo l'ultima cosa che chiediamo a tutti i nostri ospiti se tu potessi dire qualcosa al Pietro Bambino ora cosa li vorresti dire? bella domanda ma di crederci come hai sempre fatto perché è la giusta è la giusta cosa da fare è quella che ti dà la soddisfazione grazie mille grazie a voi davvero grazie a tutti noi ci vediamo nella prossima pausa caffè ciao 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 ciao